E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi andremo a rincantare l'armatura Perché oggi rinasciamo dalle ceneri Come una felice Ma ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video Cioè ragazzi come detto nell'intro andremo a rifare tutta la nostra armatura Che al momento è un po' merdosa Allora Manca da craftare il piccone Che però mi serve del legno Bene ora che abbiamo anche il nostro piccone da incantare Non ci resta che andare nel nether Nel nether per incantare Qua c'ho i libri Ah c'ho tutto Siamo a livello 71 Non basterà per il momento Però vabbè ce ne faremo una ragione sociale In realtà qualcosa forse c'ho già Boh vedremo insomma Allora ragazzi siamo nella parte sotto della fan di xp Infatti qui sopra si va alla zona di spawn Ma stiamo qui perché oggi andiamo ad incantare Unbreaking 3 PS5 Allora facciamo un po' di libri perché Unbreaking 3 e basta Ok va bene Unbreaking 3 e basta Che bello Unbreaking 3 e basta Proviamo a mettere il piccone Efficiency 4 e basta Che è un po' Scusami però qua io me la riprendo l'esperienza perché Non ha senso Poi Efficiency 4 Allora Ti hanno questo File protection E' sempre vinculata Va bene Riprendiamoci la nostra xp Palla qua finita e basta Proviamo con la spada Appena altro pozzo No Unbreaking 3 e basta No È vinculata Ok beh adesso siamo sotto il 30 Quindi Rimettiamoci un attimo l'armatura ragazzi E andiamo un attimo avanti E Tra l'altro ho un Una freccia Ci mettiamo qua Un attimino Facciamo qualche livello Per ritornare A La situazione di prima E poi Ritentiamo Ragazzi Piccolo aggiornamento Sono stato un po' FK A fare libri A incantare cose E siamo arrivati A questo punto Un po' indietro in realtà Qui Sui stivaletti Ci siamo quasi Fare del falling al massimo E una protezione al massimo Però E il manning Però in linea di massima Ci siamo Qui manca ancora tutto Quasi Per protection e blast Era perché Ormai li avevo trovati così Qui avevo trovato Gli incantamenti Su protection Che però Ho deciso di tenere Per i stivaletti Al posto di metterci Le frecce Qua ci sarà protezione Dalle Dai proiettili E qui invece Siamo ancora un po' indietro Ma adesso ragazzi C'è un po' di confusione Stranamente E quindi conviene Magari fare Un altro giorno O Continuare In un altro momento A prendere i livelli Essendo che la fa un dixp E' impegnato Ragazzi E' passato un po' di tempo Nell'ultimo clip Ma siamo quasi Con l'armatura Definitiva Vi faccio subito vedere Allora Manca solo Mending Qui va Uploadata La blast protection Al 4 E Penso basta Forse un power Non lo so Qui E' praticamente a posto A parte il manning E qui Idem A parte il feather falling E basta Qui forse Swift Nick Che però si può prendere Nelle Solo nelle Ancient City Quindi Non è dispensabile Comunque ci siamo quasi Abbiamo praticamente rifatto Quasi tutto Manca solo Appunto Il manning Che a sto punto Ragazzi Andiamo A prenderlo Da Chris Mi serviranno Un po' di smeraldi Tuttavia Quindi Ne farmo un attimo Gli stick Per Scambiarli Per smeraldi Ragazzi E' passato un po' Dall'ultima clip E cercavo il villager Commending Di Chris Perché è quello più vicino E Mi sono accorto Che ha tipo sviluppato Una villager Training goal Io non lo sapevo Manco Quindi E' andato avanti E qui C'è il villager Commending Villager Commending Signori 24 smeraldi Possiamo prenderne Uno Due E tre Tre Mending Il quarto Ce l'avremmo Per l'armatura Solo che non ho più stick Vediamo Se riesco a prendere Un quarto Mending Siamo a posto Ragazzi Perché Se riesco a prendere Un quarto Mending Dicevo Siamo a posto Perché così Finisce il video Che ho L'armatura Completa Al cento per cento E poi gli attrezzi Definisco off camera Ragazzi Sono a 36 livelli Ho messo Mending Su tutta l'armatura E come vedete L'ho anche riparata Ora Tanto che ci siamo Fire Fire Aspect Sul Sulla spada E ragazzi Tanto che ci sono Vi dico nei commenti Se avete qualche nome Per armatura E spada Qui sotto nei commenti Ne sceglierò Se ci saranno Nomi che mi piacciono Comunque Attingerò Da lì Mentre manca Mending Qua Però È perfetta Praticamente Adesso ciao ragazzi Vi saluto